Riguardo i rischi ondate di calore e incendi a Palermo la protezione civile regionale ha emesso il bollettino che riguarda oggi e domani. A tal proposito secondo le previsioni pur rimanendo elevate le temperature massime percepite 33 gradi per il 20 e 34 per il 21 il livello di rischio e l'ondate di calore si attesta a livello zero per entrambe le giornate. Per quanto riguarda il rischio di incendi per oggi nella provincia di Palermo permane la previsione di una pericolosità media, livello di preallerta colore arancione. Il prefetto Forlani ha presieduto una nuova riunione al centro coordinamento dei soccorsi con la partecipazione di tutte le componenti operative di protezione civile. Il predetto organismo era già stato attivato al fine di far fronte alla grave situazione di emergenza determinatisi per effetto dei numerosi incendi che hanno interessato il territorio provinciale e coordinare gli interventi di spegnimento e di soccorso alla popolazione. Nel corso dell'incontro in particolare ci si è soffermati sulla situazione della sesta vasca di stoccaggio della discarica di Belolampo, dove l'incendio risulta domato e sono in corso le operazioni di bonifica mediante attività di movimento terra realizzate con il concorso del IV Regimento Genio Guastatori dell'Esercito. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ARPA, sta elaborando i dati relativi alla qualità dell'aria, anche al fine di valutare le possibili conseguenze ambientali. Il miglioramento delle condizioni meteoclimatiche, in particolare la sensibile riduzione delle temperature e dell'intensità del vento, hanno favorito le operazioni di spegnimento della gran parte dei focolai attivi e la situazione degli incendi appare in via di progressiva normalizzazione. La viabilità a lungo compromessa risulta regolare su tutto il territorio provinciale e ripristinata su tutti gli assi viari in precedenza interessati dai roghi. Il dispositivo di intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale della Regione Siciliana rimane comunque in stato di allerta.